Sì, ma MySpace non mi piace. L'unico problema è l'open networking. Il cosa che mi piace più di MySpace e di Facebook, anche il mio film, Mark, che ha il mio cosa privato su Facebook, ancora può indire. In MySpace, no. Ma MySpace è troppo... per me troppe cose. È troppo... È troppo... È troppo... È troppo... Perché non trovi niente dopo. Sì, tipo se vai su un profilo di musica, un artista, cioè un pacco di roba, ma non capisci niente alla fine. Ok, il mio bello, si può vedere il web con wiki e questo sono contento. Eh... Wiki page. Ok, 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 ok. Vai, tu lo faccio. Ok, ok, ok. Ok, ok... Ok, ok. Ok, ok... Ok, ok. Fata la foto. No, 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 no. Grazie.